Aldo Agnasi nacque a Palmanova il 31 maggio del 1921 ed è morto a Milano il 27 agosto del 2005. È stato presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, è stato sindaco di Milano, parlamentare socialista per due volte ministro ed è stato anche medaglia d'argento al valor militare. Durante gli anni della guerra il giovane Agnasi è sfollato a Lodi e subito dopo l'armistizio del 1943 insieme a un gruppo di ragazzi, Lodigiani e Codognesi, fonda il distaccamento fanfula della quindicesima brigata Garibaldi. Nel 1944 si sposta in Ossola dove diventa il comandante della seconda divisione Garibaldi Redi e il comandante Iso, come tutti lo chiamano. Agnasi infatti aveva scelto per sé il nome di battaglia di Iso Danali, che era un anagramma imperfetto del suo nome. Dopo gli anni della guerra lascia il Partito Comunista Italiano, entra nel Partito Socialista per un breve periodo anche nel Partito Socialdemocratico, diventa assessore del Comune di Milano e dal 67 al 1976 è il sindaco di Milano, un sindaco molto importante, centrale nella storia della nostra città. Dopo l'esperienza amministrativa come sindaco diventa parlamentare della Repubblica per nove anni e vicepresidente della Camera, per due volte è ministro. Una figura molto importante nella storia di Milano e anche nella storia del nostro paese. Negli anni della guerra si racconta che Agnasi in 60 anni non abbia mai perso una celebrazione del 25 aprile, perché quel giorno, il 25 aprile 1945, lui era sul Ticino a combattere contro i tedeschi che volevano attraversare il fiume. Ma anche una figura estremamente importante nella dopoguerra, nella ricostruzione, nel rilancio della vita economica, civile e sociale dell'Italia e di Milano, della nostra città. E' per questo che oggi con voi voglio ricordare la figura di Aldo Agnasi, una figura che è cara al Partito Democratico, il circolo di Milano Centro dal 2005 si chiama Circolo Agnasi, Circolo Comandante Iso. Una figura che voglio ricordare con voi perché quest'anno noi del PD vogliamo dare il 25 aprile volti alla libertà. Grazie per la visione!